Ciao, sono Tiziano De Tommaso, l'idiatore e il fondatore della Tennis Winer Game Academy, l'unica piattaforma digitale in Italia grazie a un metodo di allenamento avanzato che ti consentirà immediatamente di migliorare, di trasformare la tecnica dei tuoi colpi e di battere definitivamente il tuo rivale storico del circolo in soli 90 giorni, anche se ti alleni solo un'ora a settimana e pensi di essere troppo vecchio per poter scalare la classifica. Se stai guardando questo video è appunto perché vuoi scoprire nel dettaglio perché commetti oltre il 50% di errori gratuiti in partita e la tua palla non va mai dove vuoi che vada. I due problemi principali quindi che riscontrano la maggior parte degli appassionati, i giocatori di tennis e principianti amatori proprio come te, appunto quello, problema numero uno, di approcciarsi alla palla e poi di prenderla comunque vicino al fianco, quindi in mezzo al corpo, quindi la palla entra dentro al corpo, la mano non esce bene davanti al corpo stesso e di conseguenza anche con la testa e la racchetta non riesci a modellare la direzione se giocare diagonale o lungolinea, ma prendendola dietro riesci solamente a compensare col gomito, con l'avambraccio e col polso, di conseguenza ti devi solamente accontentare di buttarla di là. Il problema numero due che riscontro è quello di non posizionare correttamente i piedi, quindi molto spesso si arriva in neutral o in open stance completamente a caso senza vedere qual è la situazione di gioco ideale. In teoria giocando open stance riesci a vedere di più il diagonale, giocando neutral stance sul dritto riesci a vedere più la componente lungolinea, ok? Quindi arrivando sulla palla molto spesso la mancata stabilità sugli appoggi ti porta chiaramente anche a non mirare bene la direzione, sia per quanto riguarda il diagonale che per quanto riguarda il lungolinea. Molto bene, per scoprire quindi come migliorare la direzione, come direzionare al meglio i tuoi colpi, il tuo dritto e il tuo rovescio e trasformare il tuo tennis in soli quattro semplici passi, devi sapere che ho girato un webinar della durata di oltre due ore e mezzo dove ti mostrerò concretamente passo dopo passo come puoi iniziare anche tu a trasformare la tecnica dei tuoi colpi e battere definitivamente il tuo rivale storico del circolo in soli 90 giorni anche se ti alleni solo un'ora a settimana e pensi di essere troppo vecchio per poter scalare la classifica. Quindi la cosa più importante che devi assolutamente fare adesso è quella di cliccare sul bottone qua sotto, scopri di più, registrarti al webinar in base al tuo orario più consono e presentarti all'interno della sala puntuale per scoprire finalmente tutti gli espedienti e i trucchetti del mestiere che ho preparato appositamente per te e per il tuo tennis. Ci vediamo dall'altra parte.